Deputato Duva, prego. Grazie Presidente. Siamo in una fase cruciale. L'Unione continua a non essere in grado di trovare risposte ai grandi problemi che affliggono i nostri Paesi, i Paesi dell'Unione. L'economia, l'immigrazione. Assistiamo all'incapacità cronica di costruire l'unità politica, rispettando anche le peculiarità dei diversi Stati. E' come se qualcuno volesse in quest'Europa che si continua a portare avanti una politica di austerità, di tagli, di sacrifici. Beh Presidente, noi no. L'Unione è come se ci fosse un'Unione europea con due pezzi e due misure, Stati padroni e Stati schiavi. Come se si volesse relegare l'Italia a uno Stato schiavo. Noi siamo assolutamente contrari a questo e ci stiamo impegnando per evitarlo. Per risollevarci. C'è un'incapacità di rispettare gli accordi che vengono presi. C'è l'egoismo dei singoli Stati, Presidente. E l'abbiamo visto recentemente. Che i singoli Stati approfittano la propria forza per portare avanti la loro politica in totale disprezzo agli altri Stati. Pensa a quello che è successo recentemente, in cui la Francia, la gendarmeria francese, ha portato i migranti in suolo italiano. Questo per noi è intollerabile. Noi pretendiamo rispetto. Il vertice del 28 giugno, Presidente. Le conclusioni erano buone di quel vertice. Per favore, chiedo un po' di silenzio. Per favore. Un vertice in cui si parlava di immigrazione. Travetto. Il vertice del 28 giugno scorso, Presidente, dicevo che si è parlato di immigrazione. Le conclusioni sono state buone, eppure sono state disattese. I Paesi se ne sono infischiati degli accordi presi. Io auspico che nel prossimo Consiglio europeo si possa affrontare il tema dell'immigrazione e affrontare in via definitiva. Presidente Giuseppe Conte, lei si è comportato benissimo e quindi un plauso va a lei e al suo operato, sia in sede italiana che in sede europea. Perché si vede che l'aria è cambiata, che c'è qualcosa di diverso rispetto a qualche anno fa dove si chiedeva la flessibilità in cambio dell'accoglienza. Voi Europa ci date flessibilità e noi ci gestiamo tutta l'accoglienza al posto vostro. Beh, noi questa cosa la rifiutiamo. Questo è quello che è avvenuto con lo scorso Governo, col Partito Democratico al Governo e è accaduto proprio questo. E l'ha dimostrato le parole di Emma Bonino, che voglio citare. Nel 2014-2016 che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi violando di fatto Dublino. Per noi questo è stato veramente vergognoso. Piuttosto, Presidente, noi siamo assolutamente contro qualsiasi forma di baratto. Noi chiediamo flessibilità perché con questa flessibilità vogliamo abolire la legge Fornero, vogliamo superarla. Quello che hanno votato i partiti alla sua destra e alla sua sinistra. Noi vogliamo quota 100. Vogliamo rilanciare l'economia del Paese, corretto di cittadinanza. Vogliamo mettere bene in chiaro che bisogna affrontare il tema della sicurezza rafforzando le frontiere dell'Unione Europea e non le frontiere tra i singoli Stati, così come sembra che stia accadendo adesso. C'è una fortissima diffidenza, Presidente, dei cittadini nei confronti alle istituzioni tutte, ma in particolare di quelle europee. Perché finora si pensa a Bruxelles come di un covo di burocrati che pensa allo zero virgola e se ne sta fregando altamente del benessere dei cittadini. Questo qui ne vogliamo cambiarlo. Dobbiamo cambiarlo ed è quello che sarà l'impegno. Che noi infatti chiediamo, perché nella risoluzione noi, Presidente, chiediamo che il Governo si impegni affinché sull'immigrazione ci sia un'unica politica. Ognuno si deve prendere la propria responsabilità e questo deve avvenire sia nelle operazioni di ricerca e salvataggio che nell'accoglienza. È ormai indispensabile riformare il regolamento di Dublino, che, lo ricordo, obbliga il Paese in cui i migranti approdano per prima a gestire tutto il processo di accoglienza. Quindi obbliga di fatto soprattutto l'Italia a farsi carico di tutto, perché è questo che avviene. L'Italia si fa carico di tutti i Paesi del Nord Europa. Quelli che sono più ambiti per i migranti non si devono preoccupare di nulla. Non solo rafforzare le frontiere esterne dell'Unione Europea. Dobbiamo contrastare la criminalità organizzata. Presidente, i migranti arrivino in Europa attraverso la criminalità organizzata. Questo sembra che la gente se lo scordi. Ma c'è un business incredibile sull'immigrazione e sull'accoglienza che deve essere assolutamente interrotto. La Brexit. Noi chiediamo di garantire a tutti gli italiani che stanno fuori dai confini nazionali, ma sono cittadini italiani, che siano comunque garantiti i loro diritti. Per questo, Presidente, il prossimo Consiglio europeo si affronterà anche il punto sul vertice euro di dicembre. La proposta franco-detesca di trasformare il Fondo Salva Stati in un Fondo monetario europeo con enormi poteri sulla finanza pubblica degli Stati non avrà mai il nostro assenso. Per cui io voglio concludere, perché lei ha anche suonato il campanello. A noi l'onore e l'onere di imporci ai tavoli europei, con la forza di chi rimane la seconda potenza manifatturiera del continente, è un Paese fondatore della comunità europea. Annuncio pertanto il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza in rappresentanza del gruppo Movimento 5 Stelle per un'Europa più giusta e più vicina ai cittadini. Grazie Presidente.